È stato beccato e arrestato a Civitavecchia. Ci sarà la convalida dell'arresto lunedì. Per ora si tratta di Fermo, in procinto di fuggire con la valigia in mano il responsabile del tentato supriaggressione poche sere fa ai danni di una giovane aquilana. Si tratta di un magrebino senza fissa dimora di circa 20 anni, rintracciato e identificato grazie alla collaborazione con la Digos dell'Aquila, che ha dato importanti dritte e collaborato con la squadra mobile diretta dal dottor Danilo Di Laura, una persona che bazzicava spesso dalle parti dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio, probabilmente per ragioni di droga, determinante per riconoscerlo, anche un vistoso tatuaggio sul collo. Le indagini sono andate avanti a ritmo serrato in questi giorni, acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere di video sorveglianza, che sono state davvero fondamentali. La giovane, nella notte tra martedì e mercoledì sera, era in compaglia della mamma e di alcuni amici, nonché babbaro del centro, prima della brutale aggressione, da ciò che è stato possibile ricostruire assieme all'uomo, si sarebbe spostata al bancomat per prelevare dei contanti che poi le sono stati rubati. Poi, in un palazzo di Costa Masciarelli, la brutale aggressione, calce e pugni al volto, la tempra della giovane l'ha salvata dallo stupro, ma non dalle fratture gravi che ha riportato soprattutto alla mandibola. E proprio a proposito delle telecamere in centro, sono state essenziali in quest'occasione, come si diceva, come in altre. L'assessore Fabrizio Taranta fa il punto del progetto. Le telecamere in questo caso sono state utilissime, come ne sono state in molti altri casi, per accertare i fatti, ricostruire la dinamica dei fatti e poter perseguire quindi i responsabili. Siamo in una fase di avanzamento rispetto al progetto complessivo di videosorveglianza in tutto il territorio comunale. Il progetto praticamente è pronto, stiamo per andare in prefettura per prendere i pareri necessari affinché possano iniziare i lavori di installazione delle telecamere. Sono previste telecamere in centro storico, ma negli ingressi della città e in tutti i punti sensibili. Ovviamente tutto è stato concordato con le forze dell'ordine e la prefettura già da diversi mesi. Il lavoro di progettazione, come ripeto, è finito. Siamo pronti per acquisire tutti i pareri e iniziare i lavori di installazione che dovranno terminarsi secondo la convenzione che abbiamo con Invitalia nel 2024. Entro il 2024. Già da quest'anno il primo 25% dei lavori dovrà essere realizzati. Siamo pronti, siamo in uno stato abbastanza avanzato. Grazie. Grazie.